Stiamo vivendo un momento di grande instabilità. Ogni giorno riceviamo notizie contrastanti da tutte le parti, che non fanno altro che confonderci. La pandemia produce delle conseguenze psicologiche e spirituali che hanno bisogno di una soluzione che arriva dal cielo. Per questo motivo abbiamo creato Grace Day, una special edition di Gocce dal Cielo che contiene 90 meditazioni di incoraggiamento che ti aiuteranno a te e ai tuoi cari ad essere guariti e ristorati nella mente e nell'anima. Vuoi ricevere l'unica soluzione priva di qualsiasi controindicazione? Dio ti benedica.